Mi piace molto alle donne, ma pure agli uomini, cani, gatti, c'è una penuria, vedi, non resisto, lui pensa solo agli occhiali, è un uomo i suoi occhiali. Fede, fagli l'imitazione allora. Federico, Federico lo sfigato, un lingotto al mese, un lingotto al mese, 4, 5, ancora, mi ha tirato un pugno, guarda di nuovo. Fede, sono sempre i primi tempi, sempre i primi tempi.